Per scrupolo abbiamo nominato un perito di parte, l'ingegner Pierluigi Zamuner di Sandonà di Piave, per comprendere se sussistano o meno violazioni relative alla sicurezza. È l'avvocato Augusto Palese di Mestre, illegale cui la famiglia di Cristiano Lucchini ha affidato il mandato per la ricerca di eventuali responsabilità nell'incidente di domenica scorsa all'interno del cantiere edile della Boscolo Biedo a Santa Marta. La mamma di Cristiano è ovviamente distrutta e attende fiduciosa l'esito degli accertamenti della procura veneziana. Vuole solo legittimamente capire se vi siano responsabilità o meno di qualcuno per il tragico accaduto, sotto il profilo penale o civile. La questione della sicurezza del cantiere edile riguarda con tutta evidenza la sua accessibilità, ma resta da capire come sia stato così semplice recuperare le chiavi del muletto sotto il quale, una volta azionato, ha trovato la morte il 13enne. L'avvocato Palese sta seguendo anche il caso del ragazzino di 13 anni che nel luglio di sei anni fa precipitò dal tetto della piscina di Mira e rimase paralizzato. Chiaro che l'intento non è volto a criminalizzare, ma la sicurezza nei luoghi di lavoro è normata e la famiglia ora intende sapere se questa sia stata rispettata. In questo senso deve leggersi il mandato a legale per un'azione sia sul fronte penale che civile. Ovviamente rispettiamo il difficile lavoro che stanno svolgendo gli inquirenti e il Pubblico Ministero.